Non ci sono molte storie felici in torno a Quechù, mentre invece ci sono molte storie felici perché è davvero difficile e pericoloso per incontrare. Nel campamento di Quechù c'è un memoriale per Gilkey, un americano che lo dispera durante una delle prime spedizioni alla montagna. ogni anno nuovi piccoli piatti sono sempre installati sul record delle persone che morano a Quechù. Questi piccoli piatti ritornano il vento, che dà loro una strana e uguale mondiale. Normalmente, ogni anno, uno o due piatti sono installati, mentre altri anni possono essere più di loro. Quechù non ha un nome. Di tutte le montagne, l'unico che è con un nome reale è questa. Non è come una montagna normale, c'è qualcosa di diverso. È non solo più pericoloso. È la quina e la rosa di queste luci popolato da grandi montagne, ma che sembra subito a Quechù. Ammongli tutti, le montagne di attorno a Quechù, ci sono tre che hanno ascoltato 800 metri. La montagna più grande, in fronte di Quechù. E le due Gagianbrumi, o belle montagne. In questo gruppo di 7 montagne, c'è il G4. If there is a montagne that can't remember Quechù, it's the Gagianbrumi 4th. It does not reach 800 meters, but stops 75 below, making it the 17th highest mountain on the Earth, and the 6th in the Pakistan. In other words, it's the 3rd highest 7-to-under on Earth. precedenti dal Giacon Kang, molto vicino al Cho'Oyu, il secondo Anapurna, e il Gagianbrumi 3rd, che è in fronte di G4, ma che molti considerano come sub-picco del Gagianbrumi 2nd. G4 è ancora una misteriosa montagna di oggi. È stato ascoltato qualche volta, e non in winter. Il primo ascent fu nel 1958 da Walter Bonatti e Carlo Mauri. In un'Italiana espedizione, frugge la nord-est ridge and the nord-peak. Crossing the pointed ridge to the main peak was considered the crux of the climb. Another important ascent dates back to 1985, the first ascent of the West Face, the most difficult wall, over 2,500 meters or 2,200 feet high, by Kurtikwa, Poland, and Schauer, in Austria. This climb, I'll talk 100% unfinished, was according to some the greatest achievement of the mountaineering of the last century. The other sites of the mountaine were also climbed, but never repeated, and never in winter. The Gagianbrumi 4rd is therefore a still little-known mountaine, which few have seen from the top. Could it be a project for the alpinists of tomorrow? Probably yes. Now we see our reconstruction from the West Wall. See you the next video. . . . . . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.